ciao doni orecchi oggi ti voglio parlare del crampo già con questa r però va bene dai del crampo muscolare e non voglio parlare perché anni fa ne soffrivo veramente veramente tanto ed era fastidioso anche perché poi durante la notte per esempio mi svegliava mi capitava un paio di volte quindi mi svegliavo o anche durante il giorno questi attacchi fortissimi no di dolore sono poi fastidiosi sicuramente poi passano in fretta ma comunque ci sono dei sistemi che ti possono aiutare a migliorare questa problematica naturalmente sai che il dolore è provocato perché queste fibre muscolari si contraggono a tal punto che per pochi istanti diciamo così non passa più il sangue la zona non viene più irradiata dal sangue diciamo e quindi c'è questo c'è questo dolore ok le cause possono essere tante quindi io ti consiglio sempre se hai un problema vai dal tuo medico e fatti curare e trova la giusta soluzione io ti do dei consigli in più ok che possono accompagnare quello che ti dirà il tuo medico e allora che cosa ho fatto beh ero stufo ho preso avevo degli appunti di shiatsu appunti di altri corsi che ho fatto e quindi ho iniziato prima di tutto a mangiare meno carne meno proteine ho incominciato a bere molta più acqua ho incominciato a integrare più magnesio che mi ha aiutato molto e ho incominciato a integrare molte più verdure soprattutto quelle verdi frutta e verdura ok e questo mi ha aiutato tantissimo e poi a livello delle reiki mi sono dato tantissimo il secondo simbolo del secondo livello appunto di reiki sia su tutto il corpo ma proprio anche sui polpacci che è la zona dove avevo questi fortissimi fortissimi campi campi ok e in più ti voglio dire ecco queste sono un po le cose che io ho fatto che mi hanno aiutato quindi osservati magari della volte semplicemente bevendo mezzo litro d'acqua in più cambiando non troppo la propria dieta aggiungendo appunto più frutta e più legumi e verdura questa problematica potrebbe sparire in più ti voglio anche consigliare se hai gli oli essenziali io uso quelli di doterra puri e certificati se agli oli essenziali puoi usare doterra una miscela che si chiama deep blue e che serve già per i massaggi però proprio per lo specifico di questa problematica puoi usare sia la lavanda mischiata a un po di rosmarino e al winter green con un po di olio vettore e poi ti massaggi il per esempio il polpaccio ricordati che si massaggia dal basso verso l'alto quindi se hai i crampi al polpaccio dovrai partire dal tuo tallone e salire proprio così no ecco questa questa è la posizione sciazzo e quindi serve con lo sciazzo si fanno i punti ok fai così e massaggi altrimenti proprio ti metti l'olio nelle mani e poi così questo il polpaccio metti e quindi vai su fino alla fossa poplitea mi raccomando non schiacciare la fossa del ginocchio diciamo perché potrebbe darti dei problemi quindi parti dal calcagno sali e poi quando arrivi vicino alla fossetta del ginocchio smetti e così che vai e ti massaggi con gli oli essenziali naturalmente prima se ti attivi al reiki è meglio ok ecco qua basta un video di sos pronto soccorso ok se soffri anche tu prova di questa problematica dei crampi prova e poi lasciami i tuoi commenti sotto questo video sarò più che onorato di risponderti è tutto una buona giornata una buona vita e alla prossima ciao 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 ciao